C'è stata la riunione con la Commissione 9 del Comune di Pesaro e la Commissione d'Eco, quindi oggi usciamo con un altro risultato per la città di Pesaro, quindi un nuovo piatto tipico con la certificazione d'Eco, denominazione comunale, che parliamo delle tagliatelle di Novilara. C'è stato un dibattito dove ci siamo confrontati e siamo arrivati al nominativo che sarà le tagliatelle di Novilara con i fagioli. Questo valorizza il borgo di Novilara e poi come sappiamo Novilara da dieci anni, ogni anno in estate, abbiamo quell'evento che è dedicato alle tagliatelle. Abbiamo due ristoranti in questo luogo ma questo nulla toglie agli altri ristoratori di poter presentare il piatto tipico di Novilara. Questo è un modo per tenere vivo il borgo ma nello stesso tempo valorizzare le imprese del nostro territorio. Ogni turista, lo dico sempre, prima di partire per un viaggio, la prima cosa che fa è guarda su Google quali sono i piatti tipici. Bene, oggi noi ne abbiamo due e a breve sicuramente ce ne saranno altri due. Quindi noi abbiamo il mare e i monti. In questo caso abbiamo due anni fa certificato il passatello di pesce in brodo e adesso andiamo nei monti e quindi valorizziamo le tagliatelle con i fagioli. I prossimi piatti che ci sono arrivati sono arrivati a una richiesta da Villa Fastigi, quindi un altro quartiere della nostra città e poi abbiamo anche avuto una richiesta da alcuni ristoratori che riguarda la pasticciata pesarese e poi come sappiamo tutti abbiamo la pizza Rossini.